buongiorno vi faccio vedere come faccio è un altro metodo di attaccare l'ariccia tenda allora intanto io mi sono fatto il bordino laterale e ho girato la parte praticamente questo è il rovescio io per far cadere meglio la tenda mi giro dei centimetri sempre dalla parte del rovescio quindi prendo la tenda piegata il bordino di una decina di centimetri verso l'interno io me la sono fermata e me lo metto il dritto verso di me aspettate che si è sfilata la macchina il dritto verso di me poi mi prendo la mia riccia tenda allora mi serve la parte larga io la devo attaccare sopra quindi faccio in questo modo siccome questa diventerà la parte alta quindi io mi sto mettendo la riccia tenda in questo modo innanzitutto lascio un po di centimetri dalla parte esterna mi metto la parte laterale giusta alla riccia tenda e inizia a cucire a millimetro questo tessuto è un pochino particolare quindi un pochino diciamo rompiscatole però vi faccio vedere lo stesso allora intanto quando io metto la riccia tenda siccome questo tessuto è tipo organza io mi tengo stirato sia il tessuto che la riccia tenda perché altrimenti mi viene arricciato quindi io mi metto giusta da questo lato destro e vado a cucire la riccia tenda deve venire praticamente questo è il dritto e questo io me lo stendo e me lo gucio naturalmente se non siete pratiche dovete imbastire però diciamo che è un metodo che potete fare se il tessuto ve lo permette potete farlo anche voi direttamente a macchina naturalmente dopo aver preso le misure io ho lasciato i centimetri della riccia tenda dentro quindi mi faccio questo i centimetri della riccia tenda più un centimetro e vado a cucire mi stendo il tessuto mi metto giusta da questo lato e vado a cucire fino alla fine ve lo voglio far vedere perché questo metodo è un metodo che è molto veloce e molto pratico potete farlo anche da sole ripeto allora normalmente vi tagliate la tenda a misura più i centimetri della riccia tenda i centimetri della riccia tenda in questo caso sarebbero forse un video non mi ricordo però iniziato a cucire in questo modo poi vi faccio vedere come faccio il resto come un cannello abbastanza grande però ve lo volevo far vedere fatti due altri però questo non ve lo volevo far vedere perché è semplice da fare ripeto potete mettere anche degli spilli allora vi ripeto che questa parte dove sto cucendo e il dritto quindi io dal dritto mi sto attaccando il mio riccia tenda ok allora arrivato alla fine anche alla fine come vedete io mi sono piegato prima il bordino e poi piegato di 10 centimetri questo questa parte mi lascerò un 45 centimetri allora mi taglio un 45 centimetri ok e vado a finire fino alla fine spero di essere chiara però non è semplice fare il video allora arrivo fino alla fine ok poi mi prendo tutta la tenda e faccio questo allora questo me lo piego aspetta sto sbagliando me lo piego dalla parte dentro così e mi faccio un impuntura adesso invece questa parte non so se si vede è il rovescio quindi io ho piegato questi centimetri questa la dritta e questo il rovescio mi sono piegato giusto alla riccia tenda e vado a cucire a piedino in questo caso è più semplice perché adesso il riccia tenda già attaccato e quindi posso andare tranquilla naturalmente siccome questo è un tessuto particolare io me lo stendo per bene perché dopo devo confrontare il sotto con il sopra perché essendo di un tessuto molto particolare è molto complicato da fare però vi faccio vedere fino alla fine così può essere che sia molto lungo il video quindi metterò su youtube dopo ve lo metto sul gruppo ripeto se è il caso potete mettere degli spilli o imbastire perché comunque non è tanto semplice allora cioè è facile da fare è più veloce però nello stesso tempo è un pochino particolare io io nel frattempo sto cucendo qua mi guardo se queste fasce si confrontano perché poi dopo rischio che magari quelle fasce non ci sono confrontate quindi allora siccome il mio la mia tenda è trasparente quindi io ho la possibilità di farlo dal dritto dopo vi faccio vedere allora questo quando io arrivo alla fine che ho sempre il piegone fatto in questo modo mi piego la riccia tenda dentro in questo modo passo attento che qui deve essere piegato per bene e vado a cucire fino alla fine ed è questo poi siccome questa tenda è un pochino particolare ho fatto l'altiteli e quindi il tessuto non me lo permetteva di cucire dal rovescio io posso cucire dal dritto perché è trasparente quindi ho la possibilità di cucire dal dritto quando cucio dal dritto però devo stare attenta che queste righe si confrontino allora che faccio mi tengo stesa questa parte magari con degli spilli tenetevelo e vado a cucire per confrontare le righe ripeto è un pochino particolare questo tessuto con la mia macchina diciamo che è semplice e non tanto perché comunque è sempre un po' particolare come tessuto però è più facile con la mia macchina perché essendo industriale io posso manovrarla come voglio alzare e scendere il piedino e quindi per me è più semplice però per voi potete mettere degli spilli o invastire e cucire allora io sto vedendo sempre le righe che si devono confrontare e quindi vado a dare degli strappi con la macchina perché la macchina si mangi un po' di tessuto e vado ad arrivare fino alla fine così vi faccio vedere come si nasce ripeto questo lo devo tenere steso altrimenti quando mi esce bene vi faccio vedere come sta uscendo eccolo qui questo poi arricciato diventerà perfetto mi metto la tenda più morbida perché sta pesando mi fa male la mano mi fa male come vedete queste qua essendo organza si stanno spostando però io sto cercando di confrontarle tutta perché se non si confrontano sono troppo brutte da vedere quindi me ne sto ok io praticamente tengo steso questo tessuto però nello stesso tempo lo tiro un pochino da sotto un pochino da sopra in modo che si confrontino ok ho deciso di farvi vedere questo video proprio con un tessuto particolare proprio apposta perché se è facile il tessuto magari non si rende bene l'idea però così questa cosa dal dritto potete farlo anche su un tessuto non trasparente magari vi mettete una guida qui a misura della dell'ariccia tenda o della misura che volete per fare questo così non sbagliate niente arrivando alla fine vi faccio vedere la parte finale abbiamo finito allora qui arriva la parte finale io questa arriccia tenda che ho piegato mi deve arrivare fino alla fine quindi mi metterò questo in questo modo farò in modo che le cuciture sempre si confrontino e questo arrivi fino alla fine spero di essere stata chiara e questo metodo vi sia piaciuto vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video ciao a tutte ciao a tutti ciao a tutti